Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft E con questo oggi saremo delle spie Avremo un sacco di livelli a affrontare Diventeranno sempre più difficili E otterremo degli oggetti da spia per diventare delle vere e proprie spie Io sono pronto James Bond, Steph, ho 23, 17 e bambù Bello Bello, ti è piaciuto? Per niente, per niente Non devi fare il silenzio imbarazzante che mi puoi far cringiare tutti Esatto, volevo proprio metterti in imbarazzo Vabbè, sarò la prima spia col capello di Natale Steph Dimmi Quando te lo levi? Fere mai I consolini mi hanno chiesto, tutti quanti Non è vero Di tenerlo fino al prossimo Natale Guarda, sono già che vuoi dire una cretinata Non è vero Non me l'hanno chiesto Che mi hanno chiesto Steph, ti prego, ormai tienilo fino al prossimo Natale Su tutti levalo, Steph, che sei ridicolo Sarà incredibile E io a settembre sarò già un boss Perché vi ricorderò già che esiste il Natale Magari ad agosto sembrerò stupido Ma poi a settembre ne riparliamo Comunque a fare abbiamo il rampino È un problema Perché io ogni volta lo uso malissimo Mi stai sparando Con il rampino in faccia Io la ignoro Steph, allora sì Io questo oggetto non lo so utilizzare L'abbiamo utilizzato anche in altri video Ed è sempre andata malissimo Però Fede Siamo qui per imparare Eh sì, per diventare dei ninja spia Aspetta Devo dire che l'ho fatto molto bene Ce l'ho fatta Ok Davvero 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 La mia vita fa così schifo oggi Fede lo tieni premuto E poi premi spazio Io cerchi di mirare dove cagli Fede devi mollare destro E fare salto Ecco Eri giusta Hai visto? Mannaggia, ho capito Hai capito? Sì, sì Hai imparato la tecnica Aspetta Vai Ma mi salto dall'altra parte E quello è un po' il problema Aspetta, aspetta E imballa quando spari Porca miseria La mia vita Che deve fare sempre Brava Perché ho risaltato Sono deficiente Allora Ok Ok Ce l'ho fatta Adesso sono tutto salti di parkour E devi stare attento A sti raggi rossi Che fanno un male cane Occhio che a tua sinistra C'è tipo una roba Dove sbattire la testa Ah ok Sì l'ho vista Quindi guarda bene dove salti È molto stretto il passaggio Perfetto Ai 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 Gli ho presi tutti Fanno malissimo Basta Sì gli ho presi tutti Stef Mannaggia Ok allora qua non cado Ai 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 Io comunque Sì Ci tengo a dirlo Sì Sono troppo goffa Per far la spia Stef Cioè io non potrei mai Essere una spia Sono d'accordo Al massimo Un assassino sicario Quello stilo No per anche quelli Sono super stealth No Io vado Faccio un casino Faccio esplodere E ma allora Quello è Rambo Fer Allora sì Rambo Rambo Sì sono più Rambo Se vi serve un Rambo Chi fosse Fer No, non morire Non morire Due cuori Ti prego Ok Per, con calma Allora Ti scongiuro Eh, non ci passo Ormai è una spia provetta Per, quello non era il rampino Stef, non rifaccio tutto, ti prego Però è vero, è un rampino Non ho bisogno di usare un rampettrale Talmente abituato a accettare Allora Allora Ok Guarda, però sto facendo tutto Eh? Aspetta Hai visto? No Ok Ok Ce la faccio Qui sotto Oh No, dai Dai Ferre, ce la puoi fare Allora Brava Mira bene Ti mi ha buttato dall'altra parte Ferre, Ferre, guardami Ok Vieni direttamente da me Allora, aspetta No, va bene Oh, brava Ok Ok, devi mirare tipo qui in alto Più avanti Ferre Aspetta Ancora di più Salta, salta, salta Vai Devi mollare e saltare Vai Ok Ci stai quasi Io vado avanti No, aspettami Aspettami No, non ti aspetto più Ce l'ho fatta, guardami Oh Ce l'ho fatta Non ho citato Ce l'ho fatta L'ultimo salto Allora No, ho sbagliato Mi è partito Ma perché è in basso Mi è partito No, mi è partito Ho sbagliato Eccomi Ah, hai visto che ho ferrato Con il rampito Sì, sì, guarda Non vedo l'ora di fare altri rampini con te Bene Assolutamente Ah, no C'è un palazia Ferre, mi stanno inseguendo i poliziotti Vedi Questo è quello che so fare io Aiutami Vedi, vedi Sì, 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 sì Sì, sì, sì La spiazza a Siro Quello lo so fare Guarda Guarda, guarda Ok Non siamo molto stealth però, Steph Si vede che sono ancora impacciati Come fanno i consiglini a sopportarti? Cioè, capisco sopportare il mio bellissimo cappello di Natale Ma sopportare adesso non lo so come fanno Andiamo La domanda anch'io comunque Cioè, sono passati tanti anni Dico È anche ora di smettere di sopportare Non mi azzecca una Non mi azzecca Ferre, dietro, dietro, dietro Dove? Ok, lo stendo, lo stendo Comunque mi dissocio Ok Anche se mi sto divertendo Ferre, ma delle spie è normale che hanno a che fare anche con queste cose Sì, ma siamo spie criminali in questo caso Cioè, mi sto divertendo però mi dissocio Ferre, ci sono delle telecamere Allora, devo nascondermi qua No, 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 qui mi vedono Aspetta, aspetta Qui devi essere super stealth Come faccio? In questa zona ha molte meno telecamere Non so dove sei, Steph È quello il problema Alla destra Alla destra ci sono meno telecamere Secondo me mi hanno visto Eh, il problema è quando si girano Vado? Bene Ho tratto il bottone Ok, perfetto Ce l'ho fatta Faccio così Ok, telecamere disattivate Ferre, puoi andare, puoi andare, puoi andare, puoi andare Ok, meno male Andiamo Mamma mia Ho superato anche questo Oh No Che faccio? Ferre Non c'è nulla Vai Non abbiamo armi migliori Oh, mi sparano Che male Ferre, usa le mele d'oro Eh, lo so, ho solo il coltellino però Faccio anche il rampino Wuhu Usa tutto quello che abbiamo imparato finora, Steph Arrivo Ferre, se ne facciamo fuori anche solo una Diventa un po' più semplice, secondo me Eh, ho visto Aia, che male Eh, perché sto coltellino fa schifo, Steph Cioè, è ovvio, abbiamo ancora equipaggiamento da noob Ok, una è morta Arrivo, Ferre Arrivo Io ne ho tre addosso Sicuramente mi ha colpito Ok, un'altra, un'altra Vai, 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 sono solo due Ok, solo Vai Un'altra è andata Erano tutte basse, mannaggia Eh, certo, ok Oh, è andata Adesso, che è sta roba? Eh, penso che questo serva per fare il lockpicking Ah, per scassinare Esatto, per scassinare Ok Sono le forcine per scassinare Che ne ho tutto quanto Io non ho mai scassinato, Ferre Non so come si fa Allora, non su Minecraft In altri giochi, sì Devo aprire questo? Ok Come? Ok Aspetta Ah, ecco, così Ah, sì Io li so usare questi Allora, aspetta Ok Primo No, non è il primo È l'ultimo Eh, da me, Ferre È diverso L'ho fatto L'ho aperto Terzo ultimo L'ho aperto, Steph Terzo Eh, Ferre, penso che dobbiamo aprirli tutti, no? Te lo faccio io Era terzo ultimo Terzo Primo Quarto ultimo Secondo me poi c'era tipo l'ultimo Esatto Poi era tipo questo Poi Ti prego Ti scongiuro A caso qua Perché non lo sappiamo Quindi è questo E poi Questo è complicatissimo È questo Aperto Com'era la sequenza dell'iron? Ho la chiave per loro La sequenza per l'iron Non l'ho mai fatta Io ho fatto lo steal Ok Ok, ho trovato un'altra chiave E ho trovato i grimaldelli di diamante Ok Ok, ci sono Ne ho fatti tre Mannaggia È difficilissimo Ok, è aperto Possiamo andare Basta Questo non lo dobbiamo aprire? No, penso che i grimaldelli di diamante ci servano per dopo Grimaldello di gran classe si chiama Ok Allora, parkour di nuovo Ancora? Sì, ma è molto diverso Sembra che questa volta Ok A me è venuta un'idea Aspetta Vediamo se riesco a realizzarla Opla Perché una spia deve essere sempre furba No, dai Sono un scemo Sono un caduto Eh L'ho trovato Bene, quello si chiama citare No, 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 no No? Davvero? Allora, non è citare Non sono in creativa Quindi è legit Ok Non mai devi fare così, Steph No, ovviamente no Mannaggia Allora Una spia Deve sempre utilizzare i metodi più furbi, Steph Allora, dici tu Allora, dobbiamo usare e rimuoverlo qui, no? No, ti prego Io comunque muoio lo stesso Cioè, non ho parole Allora Ok Quindi Ci aggrappiamo tipo qua Con calma Ok, sono Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Devo andare avanti Oh, no Come faccio? Questa volta ci sono gli spuntoni per far citare Ma non era citare Si poteva fare Allora Ok Ma come cavolo Si fa Tra lalero Tra lalero Tra lalà Ok Uff 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 No Sto facendo i salti diagonali Danno una mano Ok Oh, oh Si, hai ragione Effettivamente sì Oh, oh Stupida ragazzi Sto caduta da sola nella lava Stavo guardando Steph E sono andata dritta Per essere caduta ora Impazzisco Eh, io sono caduta lì Io sono caduta lì Steph Due Tre Ho preso un raggio Un raggio laser Non ci posso credere Ho paura Vado Uh, ce l'ho fatta È finita È finita È finita È finita Allora Allora Hacker PKX E chiavetta USB SD della morte Livello 7 Ferricati per il piccone Eh, ok Chiavetta USB Perfetto Prego tutto Spaccare qua Rompere i server Oh Ok I server sono esplosi Che paura Tutto a posto Qua c'è qualcosa da prendere Mi sembra di no Andiamo Ok Ok Buongiorno È a posto? No No, per niente Sono incastrata E questa è la SWAT Però sono molto più potenti Eh, lo so Che male Sempre peggio va Ok Allora Me l'adoro Me l'adoro Me l'adoro Me l'adoro Mangio 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 Aia Aia Ok Che male Vai Forza Dai Che ce la facciamo Ci siamo Olè Uh Livello numero 9 Uh Oh Finalmente Finalmente un'arma come si deve Mannaggia Bellissimo Allora Andiamo La chiavetta secondo te che ci serve Steph? Ah Forse dobbiamo accherare ancora qua qualcosa Chiavetta della morte Che può dire? Così Vediamo Ah Disattiva sistema di sicurezza Spegni il dispositivo Reattiva Utilizza USB con malware Fai esplodere Oh Di nuovo è esploso tutto Ha funzionato Eh sì Ho usato la pennina E ho fatto esplodere tutto quanto Bellissimo Vai Ok Andiamo Fere c'è la SWAT Fere c'è la SWAT Penso di averti fatto fuori io Lo sai Penso proprio di sì Mori 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 Ok fatto fuori Mannaggia Mannaggia Ok Fere c'è Com'è? Eh Ok ti ho fatto una mano Eh mannaggia Scusami ti ho anche colpito io Penso che sei stato proprio Fere fa un danno incredibile questa pistola Eh sì Eh sì Hai visto il male che fa? Dobbiamo cercare qualcosa nei barili? No a livello numero 10 Dobbiamo Di nuovo Fare il lockpick mi sa Ok Prendiamo Io ne prendo tanti Perché non è Semplicissimo Allora Ok Quello di diamante Steph Eh ma questo io Quello d'oro C'è pure una cassa con combinazione Allora io posso provare quello di diamante Però ne ho solo 40 Ok Allora il primo e il secondo Eh forse dobbiamo fare prima Gli altri Non lo so Io comunque provo a fare questo Ti prego Ce l'ha fatta Ok Quasi Teoricamente Uno Due Aperto No Che succede? Ecco che succede Qua c'è pure una chiave con codice Non so se dobbiamo metterlo C'è un altro Eh Da aprire di diamante No sei pazzo Già Sei pazzo Allora il primo e il terzo Penultimo Ok Ci serve anche una password Secondo Centrale Ok password Aspetta Se sbagliare Se sbaglio ora impazzisco No No Steph mi dai quelli d'oro Non ne ho Ho la chiave d'oro io Eh anch'io la chiave d'oro Però questi Non puoi aprirla Non puoi aprirla No forse li possiamo aprire anche con gli altri che hanno meno resistenza Sì è quello Terzo 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 ultimo Così Questo Forse ce l'ho Aperto Dimmi che è finita Vieni 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 Mi possiamo andare Ma scusami tutti questi Steph E qui c'era un codice Lo stai schippando Steph E qua dove può servire il codice Eh non lo so L'hai preso? Allora sì Guarda Tieni E mi mancano gli altri due ad aprire Allora 2170 Provalo Magari quello giusto C'è un'altra chiave d'oro Quindi tre chiavi d'oro Evidentemente ci servivano tutte No ma queste pure non si aprono con questo No allora Steph Questi Ahah Dorati li puoi fare anche con gli altri Grimaldelli E che ovviamente hanno una resistenza minore Ok Quindi se vuoi li finisco di aprire Non lo so ma credo che sicuramente serviva ad ottenere comunque Grimaldelli diamanti Che però non erano avanzati Abbiamo finito fare Ah ok andiamo Perfetto Guarda Io ho detto è pieno di robe È pieno di codici Bello abbiamo finito Ci siamo presi il bottino Allora scopa tutto Come sempre Scopa tutto Ah 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 Siamo ricchi È stato faticosissimo che alla fine non ci capivo più nulla Guarda pure a decassinare Sì sono anch'io confusa Cioè per la spia è troppo faticoso Esatto Esatto ero confusa pure io Mannaggia Io sto creando dei buchi da cui si può cadere Quindi stai attenta dove metti i piedi No stai attento dove metti i piedi Fere Ma prendili così i soldi Non c'è bisogno di picconare tutto Eh ma ci metto bene Guarda li prendi Sono molto più veloce così Capito No 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 Così possiamo prendere tutto ancora più in fretta Ok Siamo veramente ricchissimi Prendi Comunque ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao